Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, presso i giardini Virgilio, nelle vicinanze di Viale Virgilio. Siamo in un polmone verde situato nel cuore, nel pieno della città. Un polmone verde davvero bello, tanto bello quanto abbandonato, degradato. Vedete l'erbaccia, vedete grosse pietre sparse qua e là, una struttura per lo scivolo, per lo skateboard distrutto. Insomma, un quadro davvero penoso. Un polmone che andrebbe rivitalizzato, un polmone verde, e che invece è negletto, è abbandonato al suo triste destino. Ora, l'amministrazione comunale deve intervenire. Dobbiamo verificare le singole competenze, le responsabilità, perché alcuni anni fa, da alcuni anni, ci risulta che per la manutenzione debba provvedere lo stesso bar che insiste nell'area. Verificheremo le responsabilità, se sono del bar, se sono dell'amministrazione. In ogni caso, un fatto è sicuro. L'amministrazione comunale ha, quantomeno, una responsabilità nel vigilare sullo stato dei Giardini Virgilio. Quindi, comunque, emerge una colpa in vigilando, una colpa, una responsabilità nel vigilare, da parte di Stefano e Compani. E allora io dico, ma questa è l'immagine di Taranto, l'immagine che dobbiamo dare ai turisti? E questa schifezza deve essere data a noi stessi, ai nostri figli, quando li portiamo la domenica, col bel tempo, col sole, a prendere una boccata d'aria? Questo schifo dobbiamo riservare agli anziani che cercano di godersi la pensione, cercano di fare due passi e si trovano tra sterpaglie, tra erbaccia, tra di tutto di più, potremmo dire. Sindaco Stefano, Assessore Lonucci, penso che la misura sia colma e non venitemi a parlare di dissesto. Questo è proprio un dissesto amministrativo, operativo, non è un dissesto finanziario. Il dissesto è proprio nella vostra mancata operatività e i Giardini Virgilio sono la prova più eclatante. Provate a dimostrarvi il contrario. Grazie a tutti.